Lunedì 3 febbraio il Santo Padre Francesco ha ricevuto il Capo di Stato dello Stato Indipendente di Samoa, Tuia, Tuatua, Tupua, Tamasese e Efi. Nel corso dei colloqui ci si è soffermati su alcuni aspetti della vita sociale ed economica del Paese, nonché sull'apprezzato contributo della Chiesa Cattolica in vari settori della società samoana e in particolare nell'ambito della promozione umana. Ha fatto seguito uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, con particolare riferimento alla cooperazione regionale e ai temi ambientali che interessano diversi Paesi del Pacifico.